Benvenuto a tutti i videoascoltatori d'Italia Medievale, il saggio che presentiamo oggi è di rilevanti interesse per tutti gli appassionati del Medioevo, perché si tratta della Santità in Occidente, introduzione alla geografia medievale di Paolo Maggioni, appena pubblicato da Carocci, 336 pagine per 31 euro, quindi un argomento e un tema che affonda le radici nel nostro amato Medioevo in maniera particolare. E quindi io sono molto contento di avere con noi Paolo Maggioni, al quale, come mia abitudine, non rubo tempo e lascio subito la parola. Prego, professore. Grazie, ben trovati a tutti. Eccomi qui a parlare di santi. Di santi nel Medioevo e soprattutto in Occidente. Dunque, partiamo da qui. Che cos'è un santo? Per la Chiesa Cattolica è qualcuno, un'anima, che già da ora, adesso, in questo momento, compartecipa alla gloria di Dio e compartecipando alla gloria di Dio può intercedere nella vita quotidiana per ciascuno di noi. Ora, di una cosa non parlerò. Se effettivamente queste anime stiano compartecipando oggi e ora con la gloria divina. Questo non è oggetto di studio. Quello che invece è oggetto di studio, ciò che noi possiamo studiare, ciò che noi possiamo analizzare nella nascita e nello sviluppo, è invece il culto. Il culto, diciamo così, è conoscibile. Sia che noi siamo atei, sia che noi siamo buddhisti, sia che noi siamo cattolici, possiamo studiare storicamente le radici del culto dei santi. Possiamo anche studiare storicamente le leggende dei santi. Quindi il culto e le leggende. Ecco, io tengo molto a tenere separate queste due cose. Cioè, da una parte c'è il culto, la devozione, la venerazione verso le figure di santità e dall'altra ci sono le leggende che danno una storia a questi culti. Queste leggende possono essere anche molto posteriori, come di fatto sono, rispetto alla nascita del culto. Quindi possono raccontare delle storie che di fatto hanno poco a che fare con le reali circostanze, ad esempio, del martirio e del santo. È una distinzione essenziale anche perché naturalmente ci possono essere culti, devozioni senza una leggenda e, anche se è un caso raro, ci possono essere leggende che però non corrispondono a un culto effettivamente praticato o effettivamente presente in un certo territorio. La cosa ci permette, tra l'altro, di salvare, per così dire, alcuni culti, alcune leggende che sono altamente improbabili. Per esempio, San Giorgio, che nell'immaginario collettivo, nell'immaginario popolare, ma anche in mille rappresentazioni ovunque in Europa, uccide un drago per salvare una bella principessa. In realtà il culto di San Giorgio esisteva fin dall'antichità, semplicemente si sapeva che era un soldato. Qualche secolo dopo si è tentati di dare una leggenda al culto e mezzo secolo dopo ci si è chiesti ma come può essere morto un soldato, un soldato romano all'epoca delle persecuzioni? La risposta è stata sicuramente questo soldato sarà entrato nell'arena, avrà difeso i suoi compagni cristiani e avrà condiviso con loro il martirio. E questa è la prima leggenda di San Giorgio. Nel XII secolo invece il modello di soldato cambia. Qual è il soldato del XII secolo? È il cavaliere. E cosa fa il cavaliere? Salva le principesse uccidendo il drago. Quindi la leggenda di San Giorgio è stata riscritta secondo l'influsso culturale del tempo. E quindi ecco qui abbiamo San Giorgio che uccide il drago e salva la principessa. Naturalmente con un'interpretazione cristiana. Però se non facciamo questa distinzione indubbiamente tra culto e leggenda dovremmo negare l'esistenza di un culto di San Giorgio. Mentre in realtà si tratta di due cose molto distinte. Il fatto è proprio questo. Il culto dei Santi nasce alla fine del IV secolo. Tra il IV e il V secolo. Ovvero circa 400 anni o quantomeno qualche secolo dopo la nascita del cristianesimo e dopo le persecuzioni. Quindi si aveva a che fare con un grande numero di culti, soprattutto di martiri, e di martiri di cui non si sapeva assolutamente nulla. Quindi ci si è messi a cercare di ricostruire con gli strumenti dell'epoca. Quindi con gli strumenti tra il 400 e il 500 quella che poteva essere stato il comportamento di un persecutore, di un giudice romano, ai tempi della persecuzione. Ora, a Roma, nell'impero romano, esisteva il diritto romano. Era qualcosa di difficilmente eludibile. Paolo di Tarso, San Paolo, cittadino romano, viene portato, come era suo diritto, senza torcergli un capello a Roma, facendogli attraversare il Mediterraneo per essere giudicato a Roma. Poi viene decapitato, ma non gli torcono un capello. Ecco, il fatto è che le leggende, la leggenda come noi l'immaginiamo, San Lorenzo, San Vincenzo, Santa Lucia, in cui il persecutore dice a Biura, butta l'incenso sull'altare dell'imperatore. E il martire dice mai, e allora il persecutore taglia una qualche parte importante del santo per convincerlo. E il santo si rifiuta, il persecutore continua. Ecco, questo non corrisponde assolutamente alla verità storica. Perché ci sono comunque arrivati degli atti, dei reportage, dei processi ai cristiani, come erano effettivamente fatti. E ci sono delle leggende scritte subito dopo il martirio che attestano quali erano veramente i procedimenti del processo. Al giudice romano, al procuratore, non importava nulla di far abbiurare il cristiano. Semplicemente doveva accertare se l'imputato era cristiano o no. Quindi, alla domanda se è cristiano, risposta sì, fine al processo. Che poi il santo venisse mandato nell'arena a essere mangiato dai leoni o altre pene fantasiose, questo è un altro discorso. Ma il rapporto giudice-imputato finiva lì. Al limite, ed è attestato, il giudice poteva cercare di convincere l'imputato in considerazione della famiglia da cui l'imputato veniva. Quindi interventi al tipo, pensaci bene, questa sarà una macchia di infamia per la tua famiglia. Ma addirittura, in uno degli atti più fedeli alla verità storica, cioè quelli di Perpetua e Felicita, Perpetua si lamenta della qualità della cena con il carceriere. Dice, non è possibile, noi dobbiamo dare, siamo stati condannati alle fiere e tu ci devi mangiare questo. Che figura farai con l'imperatore quando ci vedrà così i magrolini? Oppure, nel mattino di San Policarpo, si lamenta perché nella fretta lo spingono e lui si scortica un piede. Questo per dire, in realtà le torture dai persecutori non esistevano. Però, come dicevo prima, c'è uno scarto temporale per cui secoli dopo si cerca di dare una leggenda a dei culti. E scrivendo queste leggende vediamo come l'immaginario collettivo, come la cultura popolare riempie queste leggende a seconda del contesto storico. Anche perché dietro queste figure di santità c'è comunque un modello, un modello che viene proposto o un modello che viene condiviso partendo dal basso. C'è da dire anche questo. Il culto dei santi ha una duplice polarità. Innanzitutto, il santo è colui che in un certo qual modo congiunge il cielo e la terra. Le sue reliquie stanno qui, ma la sua anima è su. Ma in un certo senso questo legame fa sì che le reliquie abbiano una certa potenza. Bisogna anche tenere presente questo. Spesso ce ne dimentichiamo. Il cristianesimo prevede la resurrezione della carne. E questa è una novità fondamentale per quanto riguarda il culto dei santi nell'area mediterranea. Perché figure più o meno sante, i semidei, c'erano anche nell'antichità classica. Ma il fatto è che nell'antichità classica il corpo, il corpo del defunto, la salma, era qualcosa di osceno, che non poteva da tenere lontano dagli occhi, perché quello che contava era lo spirito, era l'anima. Quello si contava e il corpo era osceno, era qualcosa di ignobile. Invece col cristianesimo, poiché il corpo è destinato alla resurrezione, il corpo viene rivalutato anche dopo la morte. Poi inoltre va considerato i cristiani nelle catacombe, la frequentazione quotidiana con la tomba. E dato che alcuni morti erano illustri, poiché erano morti testimoniando la loro fede, le loro eliqui, i loro resti umani, destinati alla resurrezione, alla fine dei tempi, avevano una sorta di potenza incomparabile rispetto ad altri resti. E questa potenza poi ha cominciato a dimostrarsi. A dimostrarsi attraverso, dicono le fonti, la guarigione, ad esempio, degli indemoniati, degli ossessi. Quindi questa potenza è divenuta visibile. E appunto il primo modello di santità è stata quella dei martiri. I martiri che hanno sacrificato la loro vita per la testimonianza della fede cristiana. Però il tempo passa. Questo era un modello di santità adatto alle origini. Dopo l'editto di Milano, dopo che il cristianesimo è diventato la religione di Stato, il modello di santità dietro il martire non era più adeguato. Invece in Oriente, in Occidente, si è visto nascere un nuovo modello di santità che era quello del monaco. Del monaco che appunto dedica interamente la propria vita fuori, stando per conto suo, in modo da coltivare in contemplazione la propria fede. Certo, non era un modello che poteva essere condiviso da tutti. E a fianco al monaco si sviluppa un altro modello di santità che è quello del vescovo, cioè del cristiano, del cristiano influente, che gestisce in pratica una comunità, gestisce anche politicamente una comunità. E quindi dopo il martire si affermano questi due modelli. Il monaco, per dire Sant'Antonio, Sant'Antonio abate, quello col maialino e la barba bianca, e il vescovo come Sant'Ambrogio, ma anche Sant'Agostino è un vescovo. Insomma, questo modello di santità. E sono modelli di santità che continuano negli anni e nei secoli anche. C'è da dire che c'è una differenza sostanziale tra il contesto storico occidentale e quello orientale. In Oriente esisteva ancora un imperatore, un imperatore che aveva molto a che fare con la gestione della comunità religiosa. e in Oriente il monachesimo è molto più radicale. Invece in Occidente, in questi secoli, in cui il potere politico si sbriciola e poi si riaggrega in altre entità, il vescovo ha ben altra funzione. e inoltre anche i monaci hanno una maggiore interazione col territorio. Per cui abbiamo figure intermedie come Martino di Tour, che è un monaco ma è anche un vescovo e si occupa attivamente della cristianizzazione e dell'amministrazione del territorio. E poi i modelli di santità si evolvono, abbiamo re, principi, regine e poi si arriverà al XIII secolo, anzi al XII-XIII secolo, quando il monachesimo in Occidente si rivela insufficiente a un'interazione efficace sul territorio. Senza parlare poi del clero, diciamo così ufficiale, secolare. Nella lotta per le investiture, insomma, non si veniva certo scelti come vescovo di una diocesi per la propria fede e per la propria competenza dottrinale oppure etica. In questo clima di crisi si sviluppano gli ordini mendicanti e si sviluppa un nuovo modello di santità che corrisponde alla figura di San Francesco. Di San Francesco e poi di Sant'Antonio di Padova, per rimanere nell'ambito francescano, oppure San Domenico. Insomma, al monaco si appianca il frate. Il frate che sta insieme alla gente, non è monaco che sta da solo in un monastero, è un frate che sta nelle città, che predica, agisce efficacemente sul territorio, come poi si vede nel 1233, il cosetto anno dell'Alleluia, dove praticamente tutte le cittadine sulla Via Emilia erano di fatto amministrate da un frate mendicante, che gestiva enormi folle attraverso la predicazione. E con la figura di San Francesco, una figura assolutamente complessa, nonostante l'iconografia, abbiamo un nuovo modello di santità. Il messaggio francescano è la sottomissione totale a ogni creatura. Quindi è un rapporto mistico di immedesimazione e identificazione con Dio che arriva persino a trasfigurare il proprio corpo. Ripeto, non è necessario essere devoti francescani. Noi studiamo il francescanesimo, studiamo la figura ageografica di San Francesco e vediamo che l'immagine ageografica di Francesco ci porta lui completamente identificato con l'immagine del crocefisso fino a riportarne l'immagine nella propria carne e nel proprio corpo. Francesco segna anche una sorta di divinizzazione, di deificazione del corpo umano ed è qualcosa di radicalmente nuovo e che apre poi un periodo, oppure coincide con un periodo di visioni mistiche e di fusione tra l'uomo e il divino in una contemplazione. Ecco, detto questo, c'è da dire poi che esistono altri due poli nella figura di santità. Cioè, si diventa santo come? Si può diventare santo per acclamazione, si può dire. Una figura di santità che viene dal basso. La fama di santi sassi si diffonde e poi arriva ai piani alti fino a affermarsi nonostante magari le reticenze della Chiesa. Un esempio comune e recente è quello di Padre Pio. Padre Pio è stato severamente criticato ed è un effemismo dal fondatore, cioè le origini del culto di Padre Pio della venerazione in vita di Padre Pio è stato severamente criticato e ripeto, è un effemismo dal fondatore dell'Università Cattolica, Padre Gemelli dal futuro Papa Giovanni XXIII, niente di meno. Nonostante questo il culto di Padre Pio si è sviluppato e si è affermato fino ad arrivare alla santità e ora è impossibile insomma fare qualche metro nelle città soprattutto o nei paesi di provincia senza imbattersi in un'immagine devota di Padre Pio. L'altro polo invece è quello della Chiesa ufficiale. La Chiesa ufficiale può proporre appunto come modelli di santità delle figure sconosciute in più che però alla fine magari vengono imposte. Ci sono due esempi della tarda antichità relativi al IV secolo appunto quando si sviluppa il culto dei santi. A un certo punto il patriarca di Alessandria Cirillo cerca di far onorare come santo il prefetto che lo serviva. Lo mette in chiesa e cambia nome Taumasio che è un nome che fa già capire che poteva fare dei miracoli se opportunamente pregato ma la città di Alessandria si ribella perché dice no lui era uno sgherro colpevole di omicidi era ignobile e quindi alla fine c'è una specie di ribellione e viene buttato mare. Quindi il caso di un modello di santità proposto è rifiutato dai fedeli. Al contrario San Martino di cui abbiamo già parlato l'attività e cristianizzazione del territorio dalle parti di Tour ha a che fare con un altare dove viene venerato un antico Martire. Alla fine Martino fa una rapida indagine scopre che nessuno cioè non trova le fonti c'è sicuramente questo culto ma non ci sono le fonti e alla fine vabbè beneficato da una visione che gli chiarisce che in realtà il venerato era un brigante distrugge lui stesso l'altare di quel santo e ne disperde le cosiddette reliquie. Sono due e sono i due modelli di proposizione di un culto complementari. Faccio notare questo parlando della santità contemporanea. Attualmente sono appena stati proposti due modelli uno uno è il Beato Acutis si tratta di un quindicenne il cui corpo attualmente beatificato il cui corpo è stato esposto con ai piedi un paio di scarpe sportive. Lo potete trovare digitando Beato Acutis su Google con un paio di scarpe sportive un quindicenne scarpe sportive esperto di informatica di pagine web è beatificato ed è un modello di santità che viene proposto. Un altro modello di santità il cui processo però è veramente agli inizi è quello a pochi chilometri da qui siamo tra le province di Varese di Como e quello del sacerdote che è stato martirizzato mentre Don Roberto mentre distribuiva all'alba la colazione ai senza tetto ai migranti sotto i portici della città. Anche qui è un modello di santità sono due modelli di santità contemporanei che possiamo vedere svilupparsi e possiamo vedere essere essere proposti nella nostra società. Bene mi pare di aver detto l'essenziale poi parlando del libro il libro è stato diviso in tre parti il culto le leggende e poi ho proposto quelli che per me sono 12 casi esemplari cioè ho già parlato degli atti di perpetua e di felicita subito dopo ho trovato interessante proporre Sant'Anastasia Sant'Anastasia perché Sant'Anastasia è proprio il classico culto nato da zero e con una leggenda assolutamente fantasiosa in realtà Anastasia era una matrona che come succedeva nella tarda antichità aveva concesso il proprio palazzo per la celebrazione del culto secoli dopo quella chiesa che aveva il nome latino Titulus Anastasia è diventato cioè Anastasia era colei che aveva donato il palazzo è diventato Titulus Sancte Anastasia cioè il palazzo di Sant'Anastasia e ci si è chiesti ma chi era Sant'Anastasia e ancora una volta abbiamo un veramente una specie di pastiche di 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 grande romanzo dove ci sono c'è spazio per ogni tipo di prodigi tra l'altro prodigi che sono poi stati variamente elaborati come il perfido prefetto che vuole violentare le bellissime ancelle di Sant'Anastasia ma viene accecato e quindi si si rotola in un grande pentolone in cucina di tutto questo tutto questo è semplicemente una leggenda che dà vita a Sant'Anastasia poi naturalmente naturalmente mi è piaciuto chiudere questa specie di antologia anzi questa antologia perché sono 12 figure di santità con brani essenziali a mio parere per la comprensione della leggenda mi è piaciuto chiudere questa antologia con appunto la figura di San Francesco anche perché la figura di San Francesco riguarda le fonti francescane insomma per i modelli di santità proposti per raccontare un santo ci sono i testi e la storia delle vite di San Francesco nel XIII secolo è stupicacente cioè a un certo punto visto che San Francesco era questo nuovo modello di santità e c'erano state delle profezie le profezie gioachimite che prevedevano a tempo brevissimo intorno al 1260 la fine del mondo e si vedeva in Francesco una specie di angelo dell'Apocalisse che prefigurava che annunciava la fine del mondo questo ha fatto sì che le fonti francescane siano scritte con una specie di progressione e poi e poi arriva il ministro generale dell'ordine francescano che dice fermi tutti scrivo io la leggenda ufficiale e poi è una storia vera sembra fanta letteratura ma è una storia vera ordina a tutti i francescani di andare alla ricerca di tutti i manoscritti esistenti delle vite di San Francesco precedenti perché le distruggano quindi l'Europa si riempie di frati francescani che vanno alla ricerca dei manoscritti delle vite di San Francesco precedenti e le distruggono tant'è vero che delle vite precedenti di San Francesco abbiamo pochissimi manoscritti che sono scampati solo per caso pochi anni fa un valente studioso francese Jacques Dallarand si è imbattuto in una vita di San Francesco sconosciuta e che si era salvata solo perché era era stata riportata in una specie di di agendina minuscola da parte di un frate francescano che si era fatto una specie di quadernetto ma di 12 cm di di lato maggiore dove si era scritto un'interpretazione del Padre Nostro qualche appunto e poi la vita di San Francesco un quadernetto lacero per cui non era mai stato non era mai arrivato nelle biblioteche ed è saltato fuori da un antiquario che non si rendeva bene conto ecco questa scoperta quasi casuale rende bene conto di quello che è successo nell'ambito delle fonti francescane di come i testi ancora una volta siano fondamentali e lo studio delle fonti sia fondamentale per capire il fenomeno della santità vi ringrazio per l'attenzione ci mancherebbe siamo noi che ringraziamo te per l'esposizione un argomento assolutamente complesso ma indispensabile per comprendere l'evoluzione di una società io poi vabbè io ho le mie passioni personali quindi ci sono per esempio c'è il fenomeno dei santi laici che attraversa il dodicesimo secolo gente come come Ranieri di Pisa come San Gargano che poi secondo André Wachet rappresenta il primo processo di canonizzazione nella storia della Chiesa perché anche il modo in cui si diventava santi cambia sì appunto perché c'è questo proprio a partire dall'anno 1000 più o meno c'è questo tentativo anzi tentativo molto ben riuscito da parte del papato di avvocare a sé il processo di canonizzazione quindi soprattutto perché non dimentichiamo un culto è un fattore di potere una reliquia efficace è un fattore di potere molto grande per da parte della comunità locale e quindi il papato ha cercato di avvocare a sé di centralizzare i processi di canonizzazione e quindi è anche cercato progressivamente di depotenziare il fenomeno del miracolo perché il miracolo è quella cosa che rende entusiasti i fedeli e può portare a un'ondata favorevole alla canonizzazione quindi proprio magari non solo per questo ma dopo l'anno 1000 si tende sempre a dire i miracoli non sono abbastanza è necessario una vita virtuosa è necessario una diciamo così un dossier dove la santità del santo viene comprovata anche per soprattutto per i suoi buoni costumi per la sua etica quindi modello di santità ma non non solo basato su miracoli anzi più si va avanti più i miracoli devono essere verificati vengono fatte delle commissioni che interrogano i testimoni e mettono in dubbio oppure si arriverà anche a delle commissioni mediche che debbano verificare la veridicità dei miracoli quindi c'è questo processo appunto all'inizio si diventava santi per acclamazione e poi piano piano si arriva alla situazione di oggi soprattutto dopo il pontificato di Giovanni Paolo II dove una procedura che era stata rigorosissima per secoli è stata di molto semplificata e dove c'è stata una vera e propria tra virgolette fabbrica dei santi dove il numero dei santi che era rimasto pressoché invariato con pochissime variazioni nei secoli è esploso per cui ci sono stati santificati moltissime persone anzi ci sono state naturalmente delle polemiche ma è cambiata radicalmente e tuttora ho fatto il caso di Acutis e di Don Roberto insomma le pratiche di canonizzazione vengono mandate appunto alla congregazione pontificio che si occupa di questo e che deve verificare tutta una serie di adempimenti o di requisiti perché venga proclamata la santità infatti senza dimenticarci che il culto delle reliquie anche dal punto di vista economico ha rappresentato una fonte d'entrata considerevole sì infatti allora c'erano una volta le undici ancelle di Sant'Orsola attraverso un errore di lettura non so quanto involontario le undici ancelle di Sant'Orsola diventano undicimila e quindi abbiamo moltiplicando in proporzione le possibilità delle reliquie oppure San Maurizio alla legione Tebana un'intera legione però appunto non si contano le teste di San Giovanni Battista e del insomma e più volte c'è fatto notare che con le reliquie della croce non bastavano delle foreste per per giustificare il numero del d'altra parte appunto c'erano dei dominicani che dicevano va bene certe reliquie sono fasse e che ci importa se io fossi il santo sarei contento che uno baci un osso di gallina per il mio onore tra l'altro una delle testimonianze secondo me più utili per capire il fenomeno è Salimbene da Parma Salimbene da Parma che vive il il tredicesimo secolo vagando come frate Francescano per la pianura padana testimonia come veniva costruito un santo cioè come c'era questa tendenza a costruire dei santi falsi dice Salimbene racconta di come c'erano delle reliquie che in realtà spacciate per osso del rotula del santo in realtà erano un spicchio d'aglio e il vescovo se ne è conto baciandolo baciandolo la preziosa reliquia oppure figure di santità che vengono costruite da zero e poi Salimbene spiega anche perché perché era un motivo di potere di introiti economici e si aggregavano questi culti magari anche degli esuli che speravano in questo nell'entusiasmo popolare di essere perdonati e rientrare in città sacerdoti che cercavano di riportare nelle proprie chiese quei fedeli che seguivano invece gli ordini mendicanti quindi insomma è qualcosa importante poi cioè il valore politico del dei santuari cioè per dire il santuario Međugorje adesso cerchiamo di di vederlo storicamente è una specie di avamposto cattolico in una terra al confine in una terra dove c'è una comunità musulmana e c'è una comunità ortodossa ed è stato naturalmente importantissimo durante gli anni travagliati della guerra e ha avuto indubbiamente un valore politico e così adesso non vorrei parlare male di santi onorati però il culto di padre Pio si sviluppa attraverso il la stampa fascista in contraposizione con la chiesa cattolica perché nel e soprattutto in una zona che durante il biegno rosso cioè seguito alle elezioni del 1919 aveva visto degli scontri tra socialisti e fascisti scontri che avevano lasciato dei morti sul terreno il culto di padre Pio sorge lì e serve per per così dire pacificare e portare la comunità verso un certo verso oppure Santiago di Compostela durante la la reconquista il pelinaggio a Santiago comunque ha costituito un nastro di persone cristiane che attraversavano tutta la Spagna per arrivare a Santiago e e radicando profondamente il cristianese in quelle zone io starei ore a parlare con lei di questi argomenti con te di questi argomenti perché sono un cuore pulsante di tutto il periodo medievale ma non solo perché continua come abbiamo visto dagli esempi di cui ci hai parlato fino ai giorni fino ai giorni nostri e chissà come si evolveranno ancora ma allora a questo punto credo che sia giunto il momento di ricordare il titolo del libro che è La Santità in Occidente introduzione alla geografia medievale di Paolo Maggioni appena pubblicato da Carocci un libro che io consiglio di acquistare perché può chiarire molte questioni relative a questo argomento così spinoso ti ringrazio davvero tanto di aver accettato il nostro invito ricordo a tutti i nostri videoascoltatori di continuare a seguirci sul sito che è www.italiamedievale.org dove troverete anche questa videopresentazione insieme a tutte le altre realizzate in questo lunghissimo periodo pandemico e speriamo di rivederci presto in presenza magari con il tuo nuovo saggio se non anche con questo insomma vedremo un po' grazie ancora Paolo grazie a te a presto a domenico che chante le maldì che fleurì la fleur d'egglai la rosè lì lì l'or di bianjou e mene qui d'amore e te pri si m'envoisere car io sono mio amico alla più belle e qui so è in questo paese all'ie armen e con cuermi a Grazie a tutti.